Musica Ciao, sono Amy J Ok, apparentemente Saturday 7 Dicembre al disco XS di La Frati. Faremo, for a bigger party. Kisses! Ciao ragazzi, Peppe Alberti, vi aspetto sabato 7 dicembre nella discoteca XS. E a dividere con me la consul ci sarà la grande e i DJ che si mette da Elton Bar. Ciao, ci vediamo sabato! Ciao, ci vediamo!